Resettare Chiavari almeno nel risultato, non certo nella prestazione buona e comunque alla pari dell'Entella. Semmai bisogna prestare maggiore attenzione sulle palle inattive e dimostrare maggiore concretezza sottoporta. Il Teramo riparte da queste considerazioni e si avvicina al debutto interno del Bonolis contro un'altra big del girone, il Siena, formazione sì ripescata ma trasformata dopo il mercato di qualità effettuato. Per la verità anche il Teramo è riuscito a piazzare qualche buon colpo in Estremis rimpolpando l'organico. Il tecnico Federico Guidi. Sono arrivati i calciatori come Rosso e Rossetti per menzionare gli over che ci hanno ora un ventaglio di scelta a disposizione, soprattutto abbiamo delle caratteristiche diverse rispetto ai calciatori che avevamo in Rosi, quindi ringrazio sia fortemente sia il direttore che il presidente. Nel corso della conferenza stampa Guidi non ha dato alcuna indicazione sulla probabile formazione che scenderà in campo. Quello che conterà davvero sarà l'atteggiamento. Servirà un Teramo che deve giocare con grandissima qualità tecnica, con grande intensità, che deve giocare d'insieme con delle distanze giuste perché di là dispongono dei calciatori che nei duelli individuali possano fare la differenza in qualsiasi momento, basta pensare a Palosa, a Varela, a Caccavallo, a Guberti, insomma solo per citarne alcuni, ma ce ne sono tantissimi altri come Montiel che è arrivato negli ultimi giorni, Pezzella, insomma hanno tantissima qualità e noi dobbiamo essere bravi ad essere squadra e soprattutto giocare a dei ritmi che possono mettere in difficoltà chiunque come è andata in difficoltà l'entelo.